40 abiti di sartoria realizzati con materiali da riciclo, plastiche, carte e perfino profilattici scaduti sulla passarella del PAN. La sfilata è stata ideata e realizzata dagli studenti dell'Istituto di Moda Caracciolo Salvator Rosa, che hanno adoperato i materiali da riciclo per gli abiti presentati nei saloni dello storico Palazzo Roccella. Tutte le creazioni, compresi cappelli, collane e braccialetti, sono state realizzate con materiale normalmente destinato alla pattumiera, ma che nelle mani dei giovani stilisti si è trasformato in bizzarri e creativi capi molto apprezzati dal parterre, a cui ha preso parte anche il sindaco Luigi De Magistris. Immancabile il vestito da sposa col colore bianco garantito dai bicchieri di plastica monuso attaccati tra loro, mentre il finale è stato affidato ad uno scintillante abito regale con migliaia di bastoncini di plastica a presentare i suoi giovanissimi stilisti la preside Maria Rosaria Pangia. Questo evento rientra in un percorso che abbiamo cominciato all'inizio dell'anno scolastico nell'affrontare il problema del riciclaggio e della raccolta differenziata dei rifiuti. Quest'anno di particolare c'è l'utilizzo di materiale inconsueto e anche le acconciature che voi vedrete sono acconciature fatte con materiale da riciclaggio. Questo per educare i ragazzi, per sensibilizzare il territorio alla raccolta differenziata.